Cosa è stata la mia emozione più grande dal punto di vista delle mie esperienze motoristiche? E' soprattutto la cosa più importante che ha debutato mio figlio, quindi la passione in famiglia è comune e spero che abbia l'opportunità di imparare e di divertirsi un sacco. Pensa se io dovevo fare tutti questi chilometri per venire a trovare chi? E' il mio compagno di squadra che abbiamo vinto il campionato italiano insieme e penso che dobbiamo fare tutta questa strada perché io devo vedere se il suo figlio è più bravo di tutti come sembra veramente essere. Anche vice campione del G1. Ah giusto, anche insieme. E' stato vice campione. Il mio figlio diventa attuoni poterlo attivare. Sì eh, vi tocca anche questo. Nient'altro, non possiamo farlo. Hai detto che devi alzare un po' la voce. Devi alzare un po' la voce. Adesso ti sfido. Adesso andiamo a fare un giro sul kart insieme e vi aspetto in questa sfida. Sì. Sì. Grazie.